C'è un tipo di difensore con il quale ti ha trovato meglio? Anche perché si parla tra i tanti nomi anche di Vlad, un giocatore che te conosci molto bene. Non è io che ho preso, è quello che Tito e le altre persone del club devono decidere chi vogliono. È un grande club, quindi è normale che c'è una competizione. E io credo che sia molto bene per la squadra, quindi puoi andare alla prossima. Io ho spavuto con Vlad since I was 18, 17 e abbiamo una buona connessione, è molto importante. Abbiamo molto amici, ho parlato con lui molto. Abbiamo un grande connessione, credo che sia importante. E' un grande ragazzo. E' vero con i miei amici. Beh, con Vlad lo ha citato da 17 anni, siamo molto amici, ho parlato molto con lui. E devo ammettere che abbiamo molta intesa, questo è molto importante. Ma sicuramente non serve a scegliere questo Vlad lo Presidente.